Per un uomo e un popolo siamo ospiti della Nobel Contrada dell'Aquila e incontriamo il suo onorando priore Francesco Squillace. Buonasera e grazie dell'invito. Buonasera, benvenuti, grazie a voi. Abbiamo scelto perché non potevamo farci sfuggire l'occasione questa location perché alle nostre spalle c'è la famosa originale bandiera di fine ottocento appartenuta a Mastuchino, quindi qui parliamo proprio della storia del palio. Beh sì, Mastuchino al secolo Alfredo Forni di famiglia Torraiola è entrato per tanti anni come alfiere dell'Aquila e rappresenta l'inventore e l'ideatore di quello che è il gioco un po' più difficile e più famoso che è il salto del fiocco. È entrato con questa bandiera, una bandiera nella cui araldica sono presenti le tre compagnie militari da cui deriva la nobile Contrada dell'Aquila e il terzo di città. Oggi l'araldica della bandiera è un po' cambiata per cui questa ha veramente un valore storico. Ma è vera questa leggenda che rappresenterebbe un armato che cade e il compagno che gli prende il vessillo per mantenerlo in pugno? È una leggenda bellissima e secondo i nostri storici effettivamente è così. Insomma rappresenterebbe quella che era sempre da noi sottolineata unione con, e quindi allusione sempre all'appartenenza militare, no? Beh non c'è dubbio, d'altra parte le Contrade nascono da unioni di compagnie militari e questa è la testimonianza attuale di una bella storia passata. Allora grazie intanto per quindi questo cimelio che regalate a noi e ai nostri telespettatori. Francesco, anzitutto come ho chiesto a tutti i tuoi colleghi, onorando i priori, la prima cosa che voglio sapere è che così conosciamo il tuo personaggio, a tuo avviso che tipo di fisicidurole deve avere un Contradeolo per svolgere questo ruolo, il capo della Contrade? Beh domanda sicuramente impegnativa. Io credo che innanzitutto occorra una persona ad oggi disponibile, che conosce il proprio popolo, ma soprattutto una persona che abbia un grande entusiasmo, una grande energia, perché io sento spesso parlare di un onere rappresentato dalla figura di Priore, ma io credo che soprattutto sia un grandissimo orgoglio e uno straordinario onore potersi trovare a capo e a guida della propria Contrada. A maggior ragione per chi come me, insomma, mediamente è abbastanza giovane rispetto a... Quale parte infatti di quella che è denominata l'infornata dei giovani priori? Sì, ma perché credo che nel tempo sia cambiato il ruolo del Priore, oggi è sempre meno un'attività di rappresentanza, bensì è un'attività di frequenza e di lavoro pressoché quotidiano. Quotidiano e operativo. E operativo, insieme ai propri collaboratori, che diventano indispensabili per poter svolgere al meglio questo ruolo. Tu hai sostituito Fiamma Cardini. A tuo avviso, per svolgere questo compito, un uomo o una donna, che tipo di caratteristiche, le loro differenze e come si possono meglio estrinsecare in questo ruolo? Beh, dunque, innanzitutto Fiamma è stata una figura molto importante per la nostra contrada perché è riuscita ad allargare un po' gli orizzonti anche a livello di territorio, a livello di attività e ha svolto in maniera, a mio avviso, eccezionale il ruolo di Priore. La nostra è una contrada con grande presenza di donne e nella nostra storia le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, basti pensare che già nel passato abbiamo avuto sia a priori che capitani. Esatto. E poi mi viene in mente anche, come simbolo delle donne nel tempo, dovrebbe essere diversamente la mitica Rosanna Bonelli, detta rompicollo. per cui ritengo che una donna abbia magari quell'intuito che le consente in determinate circostanze di essere forse anche un po' più pronta rispetto a un uomo che magari in situazioni di possibili tensioni invece rappresenta una maggiore garanzia. Ecco, questa se si vuole trovare delle differenze poi non sta a me dire se è meglio un uomo o una donna, chiaramente. Allora, hai detto energia, è giustissimo, sei chiaramente al tuo primo mandato. Che cosa puoi dire oggi rispetto a, prima di essere eletto, a questa importante carica? Cioè qualcosa che pensavi che avresti avuto più difficoltà da affrontare invece che ti è sembrata più facile, invece qualcosa che ti ha sorpreso perché non lo conoscevi prima e quindi hai scoperto nello svolgere questo ruolo difficile che non è così semplice. Beh, dunque, io vengo da un'esperienza di sei anni come provicario con Fiamma già in precedenza con un altro importante priore dell'epoca moderna, Sandro Nerli ho avuto la fortuna di far parte del seggio. Tuttavia, devo dire che il ruolo di priore è molto diverso in particolare, io non è che ho avuto molto tempo per riflettere perché eletto a febbraio, siamo stati subito impegnati poi con due pali ora abbiamo la festa titolare, quindi gli eventi sono veramente ravvicinati certo che forse la cosa più difficile è quando ci si trova a rappresentare la propria contrada presso il magistrato delle contrade perché lì veramente ci si sente tutto il peso addosso beh, lì sì, lì sì, ci si sente tutto il peso addosso e la responsabilità di in quel momento veramente rappresentare il proprio popolo sinceramente questo è un aspetto che se una persona non fa il priore non lo può apprezzare nella sua complessità Non si può fare tutto da solo, è sicuramente più difficile organizzare quindi il lato, diciamo così, appunto di tirare le fila un po' di tutto quanto perché è l'uomo al comando di tutta una milizia sto usando chiaramente una metafora militare o è più difficile invece dover ascoltare tutti e quindi poi riunire i pensieri di tutta una contrada che è un popolo? Ma io per attitudine sono una persona che ha comunque una mi ritengo con una buona capacità di ascolto di tutti, delle istanze, di tutti i contradaioli il passaggio poi fra l'ascolto attento dei vari suggerimenti e trasformarli in atto in decisione è sicuramente un po' più difficile perché inevitabilmente non si vorrebbe ma qualcuno si scontenta quello che secondo me bisogna apprezzare delle persone che sono richiamate a coprire certi ruoli e che sono animate dalla volontà di fare il meglio di quello che possono sempre nel rispetto di quello che è avvenuto nel passato ma con l'obiettivo di un miglioramento continuo e questo è un po' il vero motivo che spinge persone come me a mettersi a piena disposizione della contrada Se tu mi riuscissi a guardare indietro un ideale specchio rispetto al Francesco di sette mesi fa come ti senti? Ma oggi mi sento sicuramente un pizzichino più realizzato perché sinceramente nel periodo in cui svolgevo l'attività di Provicario non avrei mai pensato un domani non mi ero nemmeno mai posto il... L'eventualità Esatto, esatto L'eventualità di essere chiamato a fare il priore e da questi sette mesi devo dire che penso di aver acquisito una maggiore consapevolezza dei miei pregi e ovviamente anche dei miei difetti Tutto dall'esterno il vostro ruolo sembra sempre appunto molto complesso però poi vediamo sempre una grande energia dentro cioè è forse proprio nello svolgerlo che uno moltiplica le forze Beh quello sicuramente se io un domani mi accorgesse di non avere questa gioia e questo entusiasmo che ho dentro penso che quello è il segnale che è il momento a prescindere dal volere del proprio popolo ma è quello è il momento di lasciare perché se non si è animati da questo diciamo fuoco... Ecco fuoco sacro diventa una copertura di una poltrona che sinceramente non avrebbe senso Fino a sé stessa Assolutamente Parliamo invece del Nobel Contrada dell'Aquila dato che molto si sta parlando dei programmi dei progetti che state affrontando, studiando, alcuni anche realizzando e soprattutto del problema annoso e ne abbiamo visto anche sulla stampa cittadina mesi scorsi della ricerca di spazi Beh questo deriva dal fatto innanzitutto che la nostra è una contrada molto in crescita quindi con numeri che rispetto a una decina di anni fa siamo praticamente più che raddoppiati tuttavia abbiamo un territorio che per sua natura è bellissimo dotato di una grande quantità di palazzi, di sedi museali per lo più vuote purtroppo e che a noi non ci consente lo sviluppo di quell'attività di società e di contrada di cui invece avremmo bisogno per cui il nostro progetto è un progetto duplice innanzitutto di acquisizione di nuovi spazi ma in secondo luogo di ripopolamento del nostro territorio cito su tutti l'esempio del Monnagnese a cui ovviamente siamo interessati non a meri fini strettamente aquilini ma direi più senesi le contrade se esistono dal 500 in poi e se hanno un proprio futuro è perché hanno un territorio dove vivono chiaramente certamente dove vivono e dove si sviluppa quelle relazioni quelle relazioni dispensate altrimenti diventano solo ed esclusivamente delle sedi vuote dei musei dove si rappresenta un passato però non hanno quel valore che noi intendiamo dargli quindi importanti i locali e questo mi ha colpito quello che hai detto è sicuramente un'esigenza che non è solo dei nobili contraria dell'Afema ma proprio della città perché il riappropriarsi di spazi potenzialmente utilizzabili sarebbe un bene non solo per i nobili contraria dell'Afema ma per tutti certo noi abbiamo fatto nel 2016 un'operazione di recupero su negli orti del Verchione di una zona che sostanzialmente era un bosco invece grazie a una collaborazione con il Comune ci è stato consentito a proprie spese di rimettere a posto e di poter rendere fruibile a tutta la cittadinanza una zona che per i più assolutamente era sconosciuta e non poteva essere utilizzabile è un po' il progetto che noi avremmo anche per il Palazzo del Capitano che ci consentirebbe di poter avere una sala più grande dove svolgere le nostre assemblee e ci consentirebbe di poter rivitalizzare un'altra di quelle meravigliose strutture ma che da oltre 20 anni aspettano una destinazione In procinto dei festeggiamenti per la festa titolare altra domanda che ho fatto anche a tutti i tuoi colleghi dalla tua posizione come valuta il rapporto fra la contrada e la comunità religiosa? Noi abbiamo un rapporto particolare perché il correttore attuale Don Flavio è un ragazzo nato e cresciuto nell'Aquila siamo tra l'altro coetanei esatto abbiamo fatto tutti i passi che si fa da piccoli da ondeon ai giri insieme entrambi devo dire pessimi tamburini non se ne avrà male Flavio ma è così però Flavio è una persona straordinaria che riesce a coinvolgere tutti in quella che è l'attività religiosa e devo dire anche nei momenti recenti purtroppo luttuosi che ha affrontato la nostra contrada tristemente noti che ha affrontato la nostra contrada Don Flavio è un punto di riferimento perché non è il semplice correttore di una contrada ma è per noi veramente un fratello e quindi chiaramente questo porta tutti a approcciarsi in una maniera ancora più rispettosa nei confronti del culto religioso Quali sono i programmi che ha Francesco? Perché sicuramente, giustamente ci hai detto recente nomina subito Pagli quindi diciamo così tempo per pensare e pianificare ne avrai avuto pochi ma sicuramente in cuor tuo qualcosa hai già anzi avrai sicuramente un piano d'azione Sì, fuori riferimento a quanto detto prima innanzitutto quindi un tentativo di ripopolamento del nostro territorio e di recupero di quelle sedi che aspettano e richiedono un utilizzo direi poi anche tra i vari progetti che abbiamo quello di rendere la settimana che andiamo a aprire di festeggiamenti con una valenza che non sia soltanto gastronomica ma che sia anche una valenza storico-culturale e questo ci è consentito dal fatto di avere all'interno della contrada delle professionalità di un certo tipo che seguono questo sicuramente il filone storico-culturale quindi noi il 6 di settembre faremo questa iniziativa con il posizionamento di questa pietrina nel ricordo dell'eccidio di Niccolò Borghesi e seguiremo anche noi e questo mi fa piacere perché il recupero della memoria storica è una valenza fondamentale per tutta la città e il venerdì successivo il 13 settembre invece dopo la consegna delle borse di studio per Roberto Ricci faremo una conferenza sull'arte contemporanea e qui abbiamo sollecitato la presenza specialmente dei giovani che poi sono il motore e il futuro della nostra comunità E questo secondo te il messaggio da lanciare dalla tua posizione cioè la contrada a Siena non vive sicuramente solo per i quattro giorni del palio anche se chiaramente a questo è finalizzata è la parte sociale la parte culturale di tradizione di coesione e di rapporti che la mantiene in vita come detto tu da 500 anni Beh assolutamente di questo sono convinto a prescindere da quelli che sono le fortune o sfortune delle vicende paliesche il valore di una contrada è perché non è una sommatoria dico sempre di gruppi di contrada aioli ma è un'unica amalgama nel caso nostro i numeri sono tali da poter parlare veramente di una grande famiglia allargata e così come a noi ci è stata tramandata dalle generazioni passate l'obiettivo deve essere veramente l'obiettivo più importante della nostra attività è quella di trasferirla con i suoi valori alle generazioni future grazie buoni festeggiamenti grazie Francesco grazie a voi ci vediamo venerdì prossimo grazie a voi grazie a voi